Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Assolutamente sì, sarebbe per me un onore Assolutamente, non c'è problema, ci mancherebbe cazzo Grazie dottore Figurati, 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 buona continuazione Grazie anche a te Grazie a te È arrivato Red? Dovete fare le foto? Dovete fare le foto? Un'esco dell'ultimo snappo So bello Va bene? Puoi venire anche qua se vuoi Grazie per aver portato due mozzi sulla mia bagnarola Avrei voluto applaudirti Ma come vedi sono rimasto offeso dalla mia ultima battaglia contro gli spagnoli Vieni comunque a bere un bel boccale di grog Scusate Quindi, se aprono col concerto di Eminem e poi c'è una specie di buco nero Io mi aspetto che ci sarà un collegamento da questa season alla nuova season in cui dobbiamo arrivare Sappiamo che c'è Razzo sopra i magazzini Lei ha le motte di che cosa? Lei è ubriaco, glielo continuo a dire No, sarà un evento veramente incredibile ragazzi che non possiamo perdere E che io personalmente non perdere Lei cosa vuole? Mi dica Scendo di nuovo Salve Mi dica tutto Dai raga, punto esclamativo band Dai raga, punto esclamativo band Voglio gli 8007 in questa partita Signor Zambo06, Mattia Puglia e Ayubq Mi saluti l'ultimo, la prego Niente, non mi saluta No, scusizio Ci mancherebbe neanche uno Si faccia farcire Cosa sta dicendo? Il signor Cristian spedicati Naccari Luca e Federico Binacchi Cristian è già mi sono scordati Cristian speditaxi Argogno dopo sette anni a leggere ancora persone che scrivono ste minchiate Esatto Abizu Non ti orgogli a scrivere cazzate Bravo, figlio di pulla Figlio di puttana Merda Buongiorno Pierluici Saluto Gabriele Vincenzo Gino Caputi Che è il più grande mangiatore di mais in Italia E non usa la bocca Nettuno Dica Faccio a top 6 Ok Eh, il push diretto era già un po' a buttazione A fort Knight Come la va ragazzi? Come la va? Ma ci siamo anche oggi Venerdì 24 novembre Io lo chiamo Day One Eh, si ragazzi Day One Perché oggi è il primo Ciao 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 Il mio lavoro è essere disturbato, tranquilli Bene voi? Voi siete di Samsung? Piacere Sì Sì Mi ricordo Mi ricordo Ah sì 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 Però l'abbiamo parlato in inglese con la signorina inglese Esatto Era lei, eh? No, aspetta No, non è possibile Quindi guardatevelo, gustatevelo A parte che è bellissimo da vedere È bellissimo sì Mi piace un casino Allora, siamo quasi pronti tra l'altro con il primo game Pizze, io te lo dico Questa è una mia riflessione personale Certo Secondo me oggi vediamo un gameplay totalmente diverso da ieri Allora, infatti ne volevo parlare anch'io al volo Adesso abbiamo pochi secondi Poi ne parleremo sicuramente anche durante questo primo match Che vedrà XSID contro Embol Le organizzazioni da paura in Italia Qual è il discorso? Effettivamente essendo passato Rampino XSidrone, rampina Rampino XSidrone, rampina Rampino XSidrone, rampina Non ti fermare Slida in via WOOOOO 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 VASTA MADRE QUELLA PUNTANA DI MERDA SUCCIA CAZZI BASTARDI SIIIIIIIIIIIIIIIIii Perché non è sceso? poi la stessi stenda fidati ha col tuo alo fate col mio sono più belle ma ragazzi scusatemi quanti quanti siete in live raga ditemi un po quanti siete è vero ma perché vedi sui capelli ciao in casa c'è l'ulted tanto nostra fine tipo god guarda sparerà mai tutti questi colpi non mi dico perché mi cazzo e dovendo era una stronzata era una strontano è una stronzata l'ho detto che era una stronzata ma ho rancato dai ragazzi avete ragione era una stronzata raga meglio se direi voi io dai io vi faccio vedere un po' va che firma la bandiera italiana natale poi siamo sicuri che sia qua si era qua in zona uno che stava l'anno vedo 15 doppio triplo vado ma porca troia porto puttana che flick cosa cosa fiera ci utilizzano sono spazi fondamentalmente allestiti ai vetri vero aspettiamo che la pami si prepara sganciamo intanto tutto sì perché io voglio prima che arriva bordello andare dentro a far vedere ragazzi la fiera la pami si è pipata qualcosa non sappiamo cosa sì quando scendi un attimo raga